Salve a tutti, sono Alessio Tramonte, consulente commerciale per Automatrix. Dall'anno scorso Automatrix è diventata il terzo grande settore di Natus legato a quello che già abbiamo sempre fatto storicamente, quindi l'audiologia, la vestibologia e il fitting. Grazie a questa espansione di Natus nei nostri confronti abbiamo avuto la possibilità di poter implementare il nostro organico e precisamente da quest'anno abbiamo creato l'Accademia Automatrix. Questo perché noi crediamo fortemente nel fare formazione è condividere sempre di più la cultura, cultura che non è da intendere solo nell'ambito strumentale vero e proprio, quindi da non ridurre solo a questo, ma cultura in termini molto più estesi, quindi su tutte le possibilità e le occasioni legate appunto alla crescita del professionista. Quindi sia nell'ambito dell'audiologia, sia nell'ambito del fitting. Abbiamo iniziato da quest'anno a fare degli incontri capillari sul territorio, stiamo avendo un ottimo successo perché la richiesta è molto elevata e questo ci permette appunto di confidare nel fatto che ci sia sempre di più sia l'esigenza che la crescita del volere dello specialista. Chiaramente il tutto è supportato da Natus che come azienda ci permette di poter lavorare in maniera continua e sempre più capillare sul territorio.